ah l'aquila un abruzzese ancora contro la roma eh bastardi qui ci abbiamo Alisson, Jordi Alba, Gintra non so chi sia, Varane, Sergi Roberto Sergi Roberto è un mio ex del 2018, Ericsson Chamberlain ah Serghei anche tu bastardo Messi a 100 Messi ce l'ha cazzo Ronaldo 97, Lukaku 95, Messi 100 Ericsson 95 mamma mia e al 90 facciamo ah che si hanno messo in panchina Ronaldo e Lukaku e fammi via per il culo mette uh mamma mia guarda la panchina mi sento male cioè mette le riserve la merda devi avere il culo la pagherai te la farò pagare no, stava mettendo i più forti in panchina ha messo porca miseria la massacra quanto mi sopporto i suoi profumi però devo rimanere calmo perché altrimenti faccio il loro gioco una batteria eccoci star zero il mio stadio a quanto pare hanno indovinato cielo sereno e terzo stasera nemmeno l'ombra di una nuvola condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici i giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata accompagniamoli allora che massacro bastardo le faccio mettere i dollari ecco lo che più incontro vede ecco lo ecco lo oh cazzo un pessimo lancio in realtà ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario ma tip veningovi savi messi eh c'è un maratona io però bastardo te lo ficchi in culo messi tu e tutta la corte tua c'è l'originale fuori gioco no il pistolero non mi ero accorto che era Piontech se no io facevo fa pum 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 ero convinto fosse un fuori gioco fattuano a cresci ops che rincolo tutti i due ai 97 95 mi sapevo di usare pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo riceve in ottima posizione può andare pronto grande parate per la come dicevo dicevamo bisogna sempre li usare palla in avanti verso il compagno palla filtrante per Cristiano Ronaldo tentativo di allungare il gioco prova a passare è dentro va sul palo e poi dentro mio dio era al posto giusto al momento giusto la difesa ha pasticciato e lui li ha puniti ops no a chi cazzo l'ho passata Somarello devo fare la clip sta tenendo alta in entrambi i terzini vogliono aumentare la spinta sulle fasce limitando l'avanzata degli esterni avversari dai albero la palla piena piano messi vincoli savic messi in ruolo palla in avanti palla in intercettato tempestivamente bravo taglia la passione poteva diventare davvero pericolosa o slave chamberlain e conquista la palla bravo Diego dai una mano in che in difesa provano a partire in velocità adesso io ho controllo l'avanzata azione interrompa può cercare il taglio in mezzo Milenkovi-Savic la mette in area Milenkovi-Savic lungo passaggio in avanti male un'altra azione in copertura arriva Cristiano Ronaldo c'è un bel pallone in profondità e trova bene il compagno c'è spazio per calciare oh 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 l'ha deviata il bastardo ma più caldo non è tanto che ha messo giocatori meno forti che è comunque più forte della mia squadra probabilmente la sua seconda squadra è la sbruffoneria capito? la superbia la sbruffona cazzo era proprio sul filo del fuorigioco ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto devo guardare adesso c'è solo un gol adesso a separare le due squadre questo gol cambia gli equilibri della partita ora l'inerzia della gara è tutta al loro favore ma mi brucia i giocatori passaggio intercettabile no e fa l'hanno rovesciata Ronny la sei fa oh Cristo Biontech e fammela vedere e bum 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 non so se l'estremo difensore potesse fare meglio ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio e con questo segna una doppietta davvero una grande partita grazie il divario tra le squadre si allarga a due reti il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messi in posse si allarga di nuovo ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto buonanotte grazie della compagnia check alla prossima gioco una palla lunga prova a verticalizzare intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa è davvero una bella serie di passaggi questa bravo 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 Sergei buonanotte ciao Jack credo che il risultato rispecchia abbastanza fedelmente quanto ha avvenuto in campo fino ad ora ossia un buon movimento di palla ai uomini sia a centrocampo che nel reparto offensive se a rientro dagli sposti pare guarda il cambio per stedicarsi questi binari il risultato finale potrà essere uno solo Fabio ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo 3 a 1 tutto però ancora possibile perché il calcio è strano no ok e l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco nessun cambio per le due compagini nell'intervallo a quanto pare riceve la palla cerca un compagno Alisson dice di no c'è la palla lunga in avanti e poteva essere un'azione importante difesa però ben posizionata Mininko di Savic Roberto Roberto De Pai oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori pallone lungo in verticale messi coman la Roma si riappropria del pallone può rimpostare il gioco appara a giocare Virgil Van Dijk molto solido il suo intervento difensivo non si è fatto superare ottima pressione la sua palla recuperata qui può partire il contropiede e c'è un bel pallone in avanti pionta oplala voglio farci il cuscchiaio grazie Fabio ha detto qualunque c'è cadono mi fa delle esultanze bastardo volevo fare pum 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 con le firme certo facciamo un bel raid vediamo chi c'è online dei miei amici di ciume oppela marcos bravissimo peccato che non si è messo i titolari perché desfonnavo pure con quelli bastardo una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio fa avanzare l'azione sulla fascia chance per tirare e il portiere blocca sicuro comand messi messi oppela la e solo il grande intervento del portiere avvita il gol hanno nuovamente dimostrato fatto se non rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze passaggio profondo per Milinkovic Savic che la passa profonda per Cristiano e da lì poteva sicuramente chiudere cazzo il portiere stava dentro la porta era già a collo e i ruoli come questi lasciano sempre il segno Oxlade Chamberlain mi ha fatto Savic ora si stiglia qui c'è il chiarattivo anche Maradona uff oh bladi oh blada diavolo vinci per noi ti metto anche se mi stai un po' male spacchettiamo un po' e poi ci salutiamo poi scodella in avanti fa avanzare l'azione con il lancio lungo ci mette il fisico e conquista il pallone Piontech ma con chi cazzo sto giocando con un bambino non fai cambi non stavolta però cioè 4 non è bastato il 3 a 1 per capire che forse doveva fare qualche sostituzione cioè vedi che ti sto massacrando tatticamente no almeno tecnicamente cercate superarme lungo passaggio in avanti cioè che stavo sto superando pure tecnicamente buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile per mare azione fallo si mette per terra Ronaldo la merda perché non ha tirato in porto meno male te sei corto che te la sei regalata è vero? eh sì c'è una che tiri però fischio del direttore di gara calcio di punizione aia francesco prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione se ne va pionter il cortiere ci arriva con la punta di rinita cerca l'uomo là davanti ma l'hanno ricalirato sto gioco sembra che era avutato sono entrato in campo dal primo minuto con una grande determinazione risultato che perdevo sempre per partire di un'alcanzo di un'alcanzo di un'alcanzo Grazie a tutti.